Cambio tondo automatico. Lesclusivo dispositivo disponibile su richiesta, optional, esegue automaticamente il cambio del tondo in tempi ridottissimi. È particolarmente indicato, nel caso in cui si vogliano raggiungere elevati livelli produttivi in quanto, limpianto è pronto a riprendere la produzione in una manciata di secondi, senza alcun intervento manuale delloperatore.